Buongiorno a tutti! Dopo il successo del video che avevo girato ad Augustis quest'estate, sono tornato qui in paese per girare un altro video con un tema natalizio, infatti volevo fare il giro del paese per filmare i presepi. Grazie a tutti! Se non avesse già dato un'occhiata al video che avevo pubblicato quest'estate, lascerò in alto a destra nelle schede il link di questo video, un video che tra l'altro ha fatto più di 700 visualizzazioni, che per un canale piccolo come il mio è già una bella cosa, e grazie mille a tutte le persone che hanno apprezzato questo video, chi l'ha condiviso, e speriamo poi di realizzare altri video qua sul territorio, magari facendo un po' di trekking ancora. Grazie a tutti! Per il paese cercare i presepi, poi abbiamo incontrato chi? Mia mamma! Saluta gli spettatori mamma! Ciao ciao! Siamo proprio sotto la chiesa! Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine, se vi è piaciuto mi lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, un salutone da Ustis, e ci vediamo quindi in prossimo video. Ciao!